Per iscriverti al canale schiaccia su iscriviti e sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti delle notizie. Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala. È il grido di allarme lanciato oggi dal presidente della regione Lombardia, Tiglio Fontana, invitando ancora una volta i cittadini a restare a casa. Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano ad essere alti. Amici, io lo sto dicendo in modo educato, ma fra un po' bisognerà cambiare il tono, perché se non la capite, con le buone bisogna essere un po' più aggressivi anche nel farvela capire. Ha sottolineato Fontana aggiungendo, non vi stiamo chiedendo un sacrificio così, ma per salvare delle vite umane, ogni uscita di casa è un rischio per voi e per gli altri.